Non è una foto, è un video che è una vita che non metto un video su YouTube e quindi vi vedrete su YouTube anche questa faccia qua si vedrà il video è ambientato su di me è ambientato è ambientato per me è anche l'audio sa, sa, tanto si io ti ricorderei che oggi il Manto va pareggiato col Bari il Bari è stato in Serie A quindi il Manto va il Bari va in Cila oh, la Nokia lasciate il telefono a casa vi vedrete su YouTube dopo bellissimo grande